Buonasera signore e signore a tutti quanti, buonasera, buonasera, ci rivediamo dopo due giorni di fuoco. Allora, allora, vi ricordate l'altro ieri che avevo pronosticato un'ambata e un ambo abbinato al lambetto? Ok, perfetto, colpo grosso a Bari. Allora, praticamente a Bari è uscito il 47, quindi beccata lambata, come avevo pronosticato, e sempre su Bari è uscito il 47 e il 58, quindi grande vincita del 21 luglio di quest'anno, quindi dell'altro ieri. Ragazzi, non so che dirvi, sarà fortuna, sarà veramente che abbiamo ottenuto, ho ottenuto un grande sistema che non dico infallibile, insomma, che vi dà la possibilità di poter vincere. Comunque, ringrazio tutti perché mi avete seguito e continuate a seguirmi, fate l'iscrizione al canale, naturalmente invitate altre persone a fare l'iscrizione al canale. Per questa settimana vi do una nuova ambata abbinata sempre al lambo e al lambetto, naturalmente. Allora, praticamente le due ruote che abbiamo scelto sono sempre Bari e Venezia. Allora, questa volta l'esito dai calcoli matematici che sono stati effettuati dovrebbe uscire il 12 come ambata, quindi il 12 come ambata sia su Bari che Venezia. Questo 12 naturalmente lo abbiniamo con il 21, con il suo vertibile. Quindi, ragazzi, allora 12 come ambata a Bari e Venezia e sempre il 12 a Bari e Venezia lo abbiniamo col 21, facendo naturalmente l'ambo e il lambetto. Allora, ragazzi, non so che dirvi, spero, insomma, di potervi dare ancora grandi soddisfazioni. La strada è quella giusta, pian pianino ci stiamo lavorando, stiamo lavorando seriamente ore e ore per poter, insomma, cacciare altri pronostici, creare nuovi numeri. Quindi, insomma, abbiamo la possibilità comunque insieme a uno staff di poter, insomma, dare la possibilità a un po' di gente di sfruttare questa situazione. Naturalmente lo facciamo perché tutti devono vincere, il piacere di vincere, perché sono soldi che nessuno toglie all'altro, quindi sono soldi, tra virgolette, dello Stato, quindi se abbiamo la possibilità sfruttiamo questa situazione. Va bene, ragazzi? Ok, per oggi va bene così, ci aggiorniamo, insomma, per la prossima volta. Grazie, insomma, per la partecipazione, fate l'iscrizione al canale, invitate altre persone a fare l'iscrizione al canale e buona giornata a tutti e buona vincita a tutti. A presto, ciao a tutti!